Buongiorno, oggi parliamo di un doppio ciclo di infiltrazioni eseguite a un garretto, un garretto destro, la grande articolazione intertarsica, in cui abbiamo eseguito due infiltrazioni a distanza di 20 giorni, sempre con ozono. Ecco, mentre vediamo nel frattempo la disinfezione con betadina curata del garretto, il cavallo è un cavallo in piena attività agonistica, 4 anni, trattatore, il protocollo è stato il seguente, in seguito a una risposta alla flessione del garretto destro, abbiamo deciso di infiltrarlo nell'articolazione intertarsica con ozono, che come potete vedere sto caricando in questo momento nel macchinario, la prima infiltrazione è stata seguita circa 20 giorni prima del secondo ciclo. Adesso inizio con una qualata disinfezione con cotone imbevuto di alcol, prima di iniziare l'infiltrazione. L'ozono ha delle grandi capacità antifiammatorie e antidolorifiche a livello articolare e laddove troviamo un liquido sinoviale brutto e poco viscoso, poco lubrificante, l'ozono ha la capacità di lavorare a livello delle cellule sinoviali per ripristinare un ottimo e ben oleoso liquido sinoviale. come si può vedere dall'immagine il liquido sinoviale è molto infiammato, rosso sangue, ciò denota una elevata infiammazione dell'articolazione. eseguo quindi la prima infiltrazione con ozono e dopo circa 20 giorni, come possiamo vedere dall'immagine, ripeto la seconda fase dell'infiltrazione e come potete vedere il liquido sinoviale questa volta che esce dall'articolazione è un liquido sinoviale molto migliore, è un liquido di colore giallo limpido, trinasparente, viscoso, quindi c'è stato un notevole miglioramento. e anche in questo caso ripeto l'infiltrazione come la precedente con la stessa quantità e la stessa concentrazione di ozono. l'azote era rosso, era bruttissimo. ecco in queste due immagini a confronto possiamo vedere la differenza del liquido sinoviale tra la prima, nella prima e nella seconda infiltrazione. Allora a sinistra c'è la prima infiltrazione, come potete vedere il liquido è molto rosso, infiammato come già detto, e la viscosità la possiamo vedere da quel piccolo filo che scende dall'ago, molto corto, subito dopo la goccia si stacca, questo sta a significare che nell'infiammazione abbiamo anche poca viscosità del liquido. nell'immagine a destra invece notiamo una elevata e aumentata viscosità del liquido sinoviale, infatti come potete vedere il filo è molto più lungo e la goccia si staccherà molto più tardi. e anche il colore è notevolmente migliorato perché siamo passati da un rosso sangue ad un giallo paglierino trasparente, tutto questo dimostra il notevole miglioramento che abbiamo avuto grazie all'infiltrazione con l'ozono. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.